8 marzo, giornata internazionale della donna, le nostre telecamere hanno avuto molte segnalazioni perché gli eventi sono tanti. Abbiamo scelto di seguire Universo Donna per l'8 marzo 2016 a Cassano delle Morge. Dottoressa, sta per cominciare questo tavolo allargato. Di che cosa si tratta? Si tratta di un evento promosso dal professor Di Leo, professore del liceo artistico che quest'anno ha voluto dedicare alla collega Porzia Carucci che insieme a Michele ha sempre animato questo evento essendo una professoressa anche lei del liceo artistico e che ha sempre promosso l'arte al femminile e purtroppo è venuta a mancare e quindi Michele ha sentito il dovere di doverle questo evento. Dedicato a Porzia. Dedicato a Porzia. Porzia artista, Porzia donna, Porzia professionista, ma prima ancora che professionista una donna che ha saputo trasfondere nella professione dei valori che ci caratterizzano, in primis la generosità e la creatività. È molto bello far rivivere anche se rivivere mi sembra un po' restrittivo come termine in un voler ricordare perché ecco come ha detto lei la donna completa quindi una persona che si è dedicata molto al sociale da quello che posso immaginare che è venuta mancare penso per la malattia, per un cancro. Certo, certo. È stato quello che ogni diciamo ogni professionista che alla base è una persona dovrebbe trasfondere in quello che fa. Un insegnante prima ancora che la didattica dovrebbe insegnare ad essere persone da cui l'importanza degli studi umanistici e Porzia trasfondeva proprio nel suo insegnare quest'arte della maieutica di tirar fuori dai propri alunni, dalle proprie ragazze il meglio di sé e quindi non poteva che essere l'emblema del professore, del maieuta. Benissimo questo aver pensato proprio a lei. Lei è sociologa e quindi conosce un po' dove stanno andando le donne in questo momento storico, in questo periodo di grandi cambiamenti. Prima le generazioni si rapportavano alle mamme, come esempio poi c'è stato sganciarsi dei genitori. Oggi le ragazze delle nuove generazioni, queste ultime, hanno bisogno di messaggi positivi come tutti quanti noi, ma che cosa, qual è quella marcia in più che dovrebbero avere e quali punti di riferimento? La marcia in più che dovrebbero avere è l'autostima, perché molto spesso le donne vengono abusate o si vengono coinvolte in situazioni che a volte si diciamo sono delle terie per loro, per una scarsa autostima, per una bassa autostima e quindi per non sapere dove tendere con le proprie forze, con il proprio... ecco perché sin dalla famiglia, dalla teneretà, bisognerebbe insegnare non l'idea del possesso o di arrivare per essere qualcuno, ma bisognerebbe insegnare a relazionarsi, a relazionarsi tenendo presente quello che ciascuno di noi ha di buono dentro di sé e quindi la funzione dei genitori, della scuola dopo e delle altre figure a cui noi volere volare ci richiamiamo nella nostra crescita, c'è bisogno di modelli, modelli forti che lasciano una traccia dentro di noi e che ci sia da faro, che ci sia da guida e questo non può che iniziare dalla propria famiglia per poi allargarsi al sociale, ma se le radici sono forti la pianta può anche avere un qualche problema, però avrà sempre modo di difarsi. Sì, quindi la famiglia, la famiglia come fulcro di tutto. Le ragazze di oggi, di queste nuove generazioni, forse assorbono molto messaggi negativi, sono... lei parla di autostima, però ce ne sono tante altre, altre ragazze che invece hanno come modelli dei modelli sbagliati, modelle dal facile, guadagno, purché sia guadagno, ma forse in questo momento, ripeto, di grandi difficoltà economiche, si può anche sbagliare. Perché vengono fuori personalità con i piedi di argilla, perché quando ci si ferma alle apparenze, all'immagine, questa è una società che consuma immagini, è una società fintamente connessa, perché siamo connessi 24 ore su 24, ma come diceva un sociologo, la vera povertà di questa società è la marginalità relazionale, perché poi nel proprio intimo siamo soli, possiamo avere 500 follower su Facebook, possiamo avere mille, ma alla fine siamo soli con noi stessi. E quando dobbiamo fare i conti con noi stessi, se non abbiamo una risorsa interiore che è là che ci si appiglia nei momenti di crisi, il follower è lontano. Ecco perché dovremmo educare alla formazione psicologica, perché l'analfabetismo emotivo di questi tempi è qualcosa di spaventoso. Cioè non riusciamo a decodificare nei nostri figli, i nostri figli poi a loro volta dentro di loro, quali sono i disagi che la mente manda rispetto a dei comportamenti di disagio, di aggressività, di delinquenza, di disagio in generale. Allora ci vuole un'educazione emotiva, un'educazione emotiva a cui dovrebbero essere educati anche gli stessi genitori che non venendo più da famiglie patriarcali dove si tramandava dei comportamenti, delle regole. Anche le nuove famiglie sono un po' sole e non riescono a tramandare quella resilienza, quella capacità, quella fortezza che dentro di noi abbiamo, ma ci deve essere qualcuno che ce la fa riconoscere e che ce la potenzia. E quindi è questo analfabetismo emotivo e quindi bisogno di decodificare, di insegnare agli adulti e ai giovani quello che la mente, il disagio della mente ti dà attraverso cosa? Attraverso il nostro corpo che è la parte più vicino alla mente. Quindi per me sono questi i punti su cui si dovrebbe puntare anche a livello didattico. A Cassano delle Murge sta per cominciare un meeting a 360 gradi su quello che è la donna, perché la donna è fatta da tante sezioni, deve seguire la famiglia, il lavoro, insomma i genitori anziani, i bambini quando sono piccoli, ma forse non ha mai tempo per se stessa. Credo che la Sacra Scrittura, che è il tema che mi è stato affidato per questa sera, possa dire delle cose molto belle. C'è il famoso testo del Cantico dei Cantici che esalta la bellezza della donna addirittura mettendola a confronto in rapporto a Dio. Nel Cantico dei Cantici abbiamo questa esaltazione che è poi l'esaltazione di tutto l'universo biblico, che parte dalla Genesi e finisce con l'Apocalisse, dove in questi 73 libri si canta il progetto di Dio che possiamo leggere in Genesi 1-2, ma anche il dramma del peccato che spiega tutta la condizione di sofferenza dell'universo donna oggi, ma non soltanto oggi ma anche nel passato. È bello poter leggere in quel canto di Adamo per Eva la gioia di Dio, la gioia per il dono di questo straordinario aiuto che Dio aveva fatto ad Adamo. Una gioia che poi viene ripresa in Apocalisse 21, infatti stasera cercherò di riprendere questo tema, l'universo Apocalisse 21 dove parla di questa sposa che è la Chiesa che diventa la sposa di colui che è il Signore del tempo e della storia, il Risorto. E all'interno di questi due confini abbiamo tutto il dramma ma anche la grandezza dell'uomo, della donna e dei suoi rapporti che poi culminano in Maria. Maria che è il modello più esaltante di donna nella quale risuona la gioia di Dio, rallegrati, ma risuona anche la figura, la bellezza di ogni donna della terra e credo che sia importante questo. La donna nel 2016 com'è? Com'è cambiata? La donna nel 2016 credo che alla luce della sua scrittura abbia ritrovato se stessa la grinta di poter voler, di voler contribuire alla crescita del regno di Dio, secondo la scrittura, ma anche a contribuire a rendere più umano il mondo. Come diceva Francesco e prima ancora Giovanni Po II, la donna umanizza l'uomo, umanizza la società, rende più uomini gli uomini e rende quindi più esaltante l'universo. Non se ne può fare a meno, ma bisogna ascoltare il suo contributo e dà la possibilità di esprimersi, secondo il genio, come il suo genio, come amava parlare Giovanni Po II. Dottoressa, oggi questo evento Universo Donna per l'8 marzo 2016 è dedicato a Porsi a Carucci, una donna come tante che, come tante, è stata colpita da una malattia, dal cancro e che non è più qui fra noi. Bello questo momento di ricordo. Certo. Sia perché è stata una carissima amica e insieme a lei abbiamo iniziato questo percorso di Universo Donna, per cui rimane nei nostri cuori ogni volta, ogni anno, quando ripetiamo queste edizioni, ci ricordiamo di lei. È stata una grande collaboratrice, oltre ad essere una donna, sì, è vero, come tante altre donne. Forse perché è amica, io la ricordo particolarmente con affetto, perché per me è stata una donna molto umana, quindi brava anche da un punto di vista sociale. Lì si dedicava alla Croce Rossa, faceva volontariato, beneficenza, quindi una donna a 360 gradi. Non egoista, come tutte le donne, perché noi abbiamo una marcia in più, dico io. Cioè abbiamo più la propensione ad essere più d'aiuto al prossimo. E lo dimostriamo quando lo possiamo sul lavoro e anche in famiglia. Io modero una seduta e come lei ben può vedere ci sono argomenti, vari argomenti, perché Universo Donna, tocchiamo tanti argomenti. Da quelli che riguardano l'aspetto legale, infatti abbiamo anche un giudice che verrà oggi a relazionare sul conflitto di coppia, ad argomenti più, diciamo, più delicati, più simpatici, come può essere quello dell'architetto Luigi Viapiano, che parla appunto della donna nel cinema, quindi un aspetto molto più soft della donna. Quindi la vogliamo vedere sotto varie angolazioni. Universo Donna fa riferimento proprio al fatto che la donna è multivariegata, quindi ha tanti colori. E molte volte è difficile scoprire quello che in effetti è dentro una donna, perché noi aspettiamo sempre che si manifesti, ma il suo aspetto esteriore, che può essere la bellezza, il modo di vestire e anche il modo di comportarsi, spesso può celare qualcosa di molto più bello che dentro la donna e che non sempre viene alla luce. Solo chi conosce bene la donna, riesce a capire questo profondo significato che essa contiene. Qualche tempo fa una sua collega, una ginecologa, mi disse, io ho scelto questa professione, ormai lei è in pensione da un po' di tempo, da un po' di anni, perché volevo essere amica delle donne, ma mi sono accorta che le donne scelgono gli uomini. È ancora così? In parte sì, perché tra di noi poi siamo un po' restie, diciamo nello scambiarci quelle che possono essere delle intimità. C'è un po' di competizione tra le donne, però io penso che col tempo questo verrà superato, un po' alla volta, non corriamo. D'altra parte anche queste nostre manifestazioni servono proprio a far capire alla donna che deve unirsi alle altre donne, non perché vogliamo lottare contro qualche cosa, ma perché la solidarietà tra di noi può aiutare anche il mondo a vivere una serenità maggiore. Quindi siccome la donna, noi sappiamo sempre che anche nella famiglia è quella che mantiene la pace e di equilibrio, nel mondo dovrebbe avere lo stesso ruolo. Quindi tante donne unite può darsi che riescano poi in futuro a risolvere i problemi dei conflitti tra i popoli. Le donne fanno prevenzione? Ecco, entriamo nella sua materia. Sì, sì, fanno prevenzione. Anzi, sempre di più vengono per prevenzione. Sì, sì, la fanno e vengono contente di avvicinarsi alla prevenzione. Sì, è importante perché io appunto dico a tutte quante fare prevenzione per i tumori su cui possiamo noi fare una diagnosi precoce è fondamentale perché è l'unico modo per salvare la vita. Anche se abbiamo oggi una tecnologia che ci aiuta all'avanguardia, abbiamo nuovi farmaci che possono migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne che purtroppo si ammalano, però la prevenzione rimane l'arma più efficace contro i tumori. La donna, i mille volti potremmo dire, le mille situazioni, i periodi storici. Lei è un'insegnante di latino e greco al liceo, un liceo classico di Matera e oggi parlerà della donna nel tempo. La donna nel tempo, sì, la donna attraverso i secoli. Una donna che poi alla fine forse presenta sempre le stesse caratteristiche, dovremmo soltanto accorgersene rileggendo amorevolmente i classici che sono sempre, credo, presenti, hanno degli ideali, una morale o una morale, cioè dei comportamenti che poi andiamo ad individuare anche nelle dinamiche sociali quotidiane. I corsi e ricorsi della storia? I corsi della storia e dell'essere umano che deve diventare persona piano piano, anche attraverso le fragilità. Comunque la donna nel tempo, nel tempo che fu, era una donna apparentemente, come dire, velina, quasi inesistente perché era l'uomo quello che dettava tutto, ma credo che dietro le quinte le donne lavoravano, lavoravano. Ma io credo che dipenda dalle fasi e dai vari punti di vista di chi ce le ha descritte. Sicuramente a volte abbiamo avuto degli atteggiamenti, dei pregiudizi negativi, altre volte invece proprio la storia che ci dimostra il contrario, forse ancora più indietro dell'epoca classica. Quindi bisognerebbe andare un po' al periodo omerico, alla letteratura omerica, ci sembra strano, ma troviamo donne forse molto più forti, più serene, con atteggiamenti forse più moralmente alti rispetto a noi, a tanti fatti purtroppo negativi dell'età quotidiana di oggi. La donna emancipata, forse erano emancipate allora anche. Qualche donna che l'ha affascinata nel suo escurso storico? Ma ci sono donne che mi affascinano, tra virgolette, per degli atti abominevoli, magari che hanno compiuto, ma affascinare in senso di distacco, una... ma che ne so, tante ruine tragiche o... e donne positive, donne positive. Una bella eroina. Ma l'eroina... l'eroina ce ne sono tante, per essere l'eroina bisogna a volte fare, accettare la normalità, per cui potrei citare, che ne so, un epicario o personaggi stoici, la moglie di Seneca, Paolina. Sono persone, donne, che hanno amato fino alla fine. Non necessariamente mi colpiscono atti estremi, insomma. Professore, lei è uno degli organizzatori, se non l'organizzatore adesso ce lo dirà, di questa bella manifestazione a tutto raggio su quello che è il mondo femminile. È un uomo che, come dire, si intrufola nel mondo femminile oppure che lo vuole promuovere perché? No, noi promuoviamo l'ambito femminile perché se noi guardiamo la letteratura laddove sono stati impiegati fiumi di inchiostro in tal proposito, osservando dopo il senso del dolore, soprattutto se ci vogliamo rifare ad una piccola postilla letteraria che mi è venuta in mente proprio stamattina riguardo Dante, il secondo canto di Dante e che c'è poi un'illustrazione di Gustave Doré laddove compare, ecco, il conduttore della barca con sopra l'artista e Dante e pure Virgilio, osservando il fiume infernale si vedono delle persone, dei personaggi che chiedono aiuto perché per quanto transita la barca vogliono salire per salvarsi. Allora io ho paragonato questo senso del dolore in buona sostanza alla sofferenza della donna, quando rimane isolata, quando rimane nella posizione di impotenza assoluta di poter reagire a tutte le angherie, a tutti i soprusi che da secoli per cultura ancora tutt'oggi le vengono imperfettate da una società alquanto maschilista, direi con uno sfondo dittatoriale. Io sono uno di quelli che si dedica a questa manifestazione per quanto sia una manifestazione a politica e a partitica autosombenzonata, diciamo, e quindi noi cerchiamo di lasciare un segno nella cultura di chiunque possa interessarsi di questo fattore e quindi poi noi in questo momento mi ispiro a Max Weber, sfidando l'impossibile si cerca di raggiungere il possibile. Senta, dal suo osservatorio la donna ha raggiunto quell'emancipazione, quell'acquisizione di diritti di cui tanto si parla, di cui tanto l'uomo maschile parla anche se non rispetta poi perché molto spesso e qualche volta, oserei dire più delle volte, quando si festeggiano queste giornate mi sembrano anche delle forme di ipocrisia. In teoria la donna ha raggiunto dei diritti ma per di più sulla carta, poi da un punto di vista pratico sussiste sempre quella fase di cultura radicata maschilista, ora come non mai in un'epoca in cui si può benissimo parlare di delirio collettivo determinato per effetto di tanti fattori, in primis forse l'economia che ha oramai demolito ogni forma di progresso e quindi si capisce che l'uomo nella sua aberrazione interiore, per un fatto praticamente distinto, riversa la propria forza sul sesso più debole e quindi su coloro che stanno più a portata di mano. Quindi in questa fase l'uomo sta perdendo la sua identità, non dico di galanteria ma di civiltà, ora come non mai, per quanto ogni giorno si sente alla televisione dei mass media che ci sono degli appunti da fare in proposito. L'uomo va educato, va educato alla civiltà, all'educazione e va soprattutto educato a non utilizzare la forza per far prevalere la propria ragione, il proprio essere, il proprio modo di essere. I libri sono l'arma più forte che l'uomo ha a sua disposizione, probabilmente anche molto più forte delle armi dei soldati quando vanno in guerra. Allora dobbiamo usare quelle cose per andare avanti e per vivere civili. Le donne vanno omaggiate ogni giorno e rispettate non solo in determinati momenti, ma in tutti i momenti. Un saluto e un abbraccio a tutte le donne del mondo. Prima di lasciarla un ricordo, un pensiero a Porzia. Porzia Carucci, con me, è stata fautrice di tutto questo. Poi abbiamo pubblicato delle cose in proposito, dei testi, l'ultimo Universo a Donna si chiama, che poi è una raccolta di atti, delle conferenze fatte, di atti congressuali e poi con delle impressioni personali sia mia che sue. È scomparso a 48 anni, nel silenzio, dopo aver dato tanto, anche poi come volontario della Croce Rossa italiana, laddove il suo raggio di azione si è esteso in gran parte del mondo. È poi una poetessa molto sentita, con una vena romantica molto forte. Cosa le manca? Beh, mi manca l'amicizia di Porzia Carucci, la sua allegria, la sua presenza costante anche quando non c'era. Tutto qua. Dottor Viapiano, il suo intervento in questo Universo di donne, ma vedo che ci sono anche degli uomini, è bello omaggiare le donne. Esatto, anche perché il modo migliore per omaggiare le donne è lavorare insieme a loro e anche nella collaborazione trovare gli spunti migliori, perché comunque la donna ha delle qualità oggettivamente peculiari in tanti settori, soprattutto nel mondo dell'arte. Ha un senso oggi ricordare questa giornata? Farlo come lo state facendo voi sicuramente è un momento di riflessione, ma poi ci sono momenti ludici un po' sfrenati che forse non portano nulla. Ma in realtà no, perché la condivisione degli spazi, del tempo e lo scambio culturale è comunque molto molto importante. Gli artisti hanno esigenza di esprimersi e quindi in ogni momento è giusto darsi le opportunità. Personalmente credo che al di là della festa della donna debba esserci una costanza ogni giorno nella collaborazione con professionale e culturale che non deve mai interrompersi. C'è anche in questo universo donna un settore che si occupa di psichiatria infantile. Dottore, lei neuropsichiatra infantile porterà il suo contributo. Su che cosa avverterà? Mi diceva che non è la prima volta che lei accetta l'invito. Perché? Ma parte l'amicizia nei confronti del professor Di Leo che oltretutto è mio gemello. Ci siamo trovati a nascere lo stesso giorno, lo stesso anno in due posti diversi della vita. Realmente siete uguali o no? No, diversi, molto diversi. Gemelli diversi. Gemelli diversi. No, mi piace molto l'idea, mi piace molto questo lavoro sulla donna, mi piace molto l'idea di unire arte e scienza e come avevo detto una volta facendo una battuta, io di arte non me ne occupo ma nel mio campo mi sento un artista per cui penso di avere titolo a poter partecipare. Ripeto, in passato ci siamo occupati di temi specifici quale poteva essere la violenza sui minori e quindi la violenza sulla donna, la violenza domestica, ci siamo occupati della disabilità femminile. L'esperienza che più mi è piaciuta portare è quella degli aspetti scientifici della creatività. Stasera diciamo che è un po' un esperimento, una prova praticamente, partendo dalla metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, è un'analisi di un modo di pensare che porta molto spesso a essere infelice alla ricerca di quello che potremmo essere senza badare a quello che abbiamo. Quindi è un lavoro sulla normalità, sulla redefinizione della normalità, sulla redefinizione della salute, sulle implicazioni di tipo sociale, personologico, economico che possono avere le due cose, però mira a creare i presupposti di un aiuto che le persone possono richiedere a altri, ma soprattutto possono cercare in se stessi e andando a ricercare l'ascolto di se stessi. E quindi lavorare su quello che di buono c'è, molto spesso la gente non riconosce quello che di buono ha fatto, ha costruito e lavora su quello che avrebbe potuto fare o quello che non è riuscito a fare. I rimpianti? I rimpianti. Meglio i rimpianti o i rimorsi? Il rimpianto apre la possibilità a una speranza, il rimorso no, perché vuol dire che c'è qualche cosa che è andata male, che comunque di cui siamo causa.